Sopralluogo questa mattina della sindaca Cecilia Francese e del responsabile dell'ufficio tecnico di Battipaglia Carmine Salerno presso la Nappi Sud, azienda che nelle scorse settimane è stata interessata da un vasto incendio. La sindaca si è complimentata per l'immediata ripresa delle attività a pieno regime, constatando che il ciclo di lavorazione della Nappi Sud ha superato positivamente tutta la serie di controlli ai quali è stato sottoposto.